A nostro giudizio. Ha suscitato grande interesse sia in Turchia che in ambito internazionale. Questi due hanno mostrato una grande armonia sia sullo schermo che nella vita reale mentre condividevano i ruoli principali nella serie televisiva Arcangicus. Ci sono molte prove del loro amore, i momenti deliziosi che trascorrono insieme davanti e dietro le telecamere, le loro pose candide e il loro costante sostegno reciproco sono solo alcune di esse. Inoltre, i loro messaggi affettuosi e le interazioni reciproche sui social media non possono essere ignorati. Il profondo amore e limpegno reciproco di Ken e Demetho possono essere visti non solo come una relazione romantica, ma anche come un esempio di vera amicizia e cooperazione. Non c'è dubbio che questi due resteranno la prova di una vera storia d'amore agli occhi dei loro fan. La relazione tra Gianni Aman e Demetho Sdemir è diventata un argomento seguito da vicino dai media e dai fan turchi. Questa relazione è stata accolta con grande interesse e discussa sia dalla fan base turca che da quella internazionale. La relazione della coppia è stata vista e discussa su un'ampia gamma di piattaforme, dal televisore agli eventi speciali. La relazione tra i due è iniziata con la collaborazione nella serie TV Archangicus, e questa serie ha guadagnato grande popolarità durante il loro tempo insieme. Oltre a testimoniare la loro chimica e chimica sullo schermo, gli spettatori erano anche curiosi della loro attrazione reciproca nella vita reale. La relazione tra Gianni Aman e Demetho Sdemir ha avuto un ampio impatto anche sulle piattaforme dei social media. Entrambi i giocatori hanno spesso espresso il loro amore e rispetto reciproco attraverso i loro account sui social media. Ciò ha ulteriormente rafforzato il legame dei fan tra i due e ha rafforzato la loro convinzione che la loro relazione fosse reale. Tuttavia, essere costantemente al centro dell'attenzione da parte dei media e dei fan durante la loro relazione ha portato con sé alcune difficoltà. In particolare, la costante condivisione della propria vita privata con il pubblico ha comportato la violazione della riservatezza di alcuni momenti privati. Di conseguenza, la relazione tra Gianni Aman e Demetho Sdemir è diventata una coppia che è stata accolta con grande interesse e ammirazione. Il loro amore e la loro armonia reciproca si riflettevano in modo impressionante non solo sugli schermi ma anche nella vita reale. Sembra che la relazione tra i due rimarrà una vera storia d'amore per molte persone e continuerà ad essere un esempio che dà speranza al pubblico. La relazione tra Gianni Aman e Demetho Sdemir è stata accolta con grande interesse non solo in Turchia ma anche a livello internazionale, e sono diventati una coppia indimenticabile agli occhi dei loro fan. Ci sono molte prove che dimostrano il loro amore reciproco, i momenti piacevoli trascorsi insieme, le pose sincere, il loro costante sostegno reciproco e, naturalmente, le emozioni che fluiscono dai loro occhi. Non sarebbe sbagliato affermare che quella del duo non è una relazione romantica, ma anche un esempio di profonda amicizia e cooperazione. Soprattutto condividendo i ruoli principali nella serie televisiva Arcangicus, l'armonia che hanno mostrato sullo schermo e nella vita reale è stata molto apprezzata dal pubblico. I momenti piacevoli che trascorrono davanti e dietro le telecamere, la loro sincerità e il loro costante sostegno reciproco dimostrano che il rapporto tra questi due è costruito su solide basi. Anche i social media sono diventati parte di questa relazione. Entrambi gli attori hanno condiviso messaggi d'amore reciproci sui propri account, ottenendo il sostegno e l'amore dei loro fan. Ciò ha rafforzato la convinzione che la loro relazione fosse reale e sincera e ha reso felici i loro fan. Tuttavia, essere costantemente sotto i riflettori dei media e dei fan ha portato con sé alcune sfide. La condivisione pubblica di momenti privati a volte comportava una violazione della privacy. Tuttavia, il rapporto tra i due è rimasto forte nonostante queste difficoltà, e ogni momento trascorso insieme è stato fonte di speranza per i loro fan. In conclusione, la relazione tra Gianni Amane e Demetos Demir costituisce un esempio che sarà ricordato come una vera storia d'amore e ispirerà il pubblico. Sembra che ogni momento che trascorrono insieme rimarrà la testimonianza di un viaggio pieno di amore, armonia e sostegno. Sembra che ogni momento che trascorrono insieme rimarrà il pubblico. Sembra che ogni momento che trascorrono insieme rimarrà il pubblico. Sembra che ogni momento che trascorrono insieme rimarrà il pubblico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.